Siamo il ceppio! Siamo il ceppio! Io sento il cuore a mille! Sì! Sì, Teo! Sì, Teo! Spaccavi, Teo! Adesso andiamo a fare! Chiudi su un secondo, Mario! Chiudi su un secondo! Comprila! Ceeeee! Ceeeee! E va bene! Mamma otto! Manca otto! Sì! 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 Calma! Dai tre minuti non di più che non è morto nessuno eh! Abbiamo mortissimo tutti in piedi! Tutti in piedi! Esatto! Hakan, non hai tenuto una cazzo di palla! Sì! 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 Venti tanto! Venti tanto! Sì! 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 bravo Mario c'è bravo Mario bravo Mario guarda guardalo che la prende lo stesso cazzo calma raga calma 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 vai la bandierina e corre vai si calma 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 guarda il successo la fine di questa azione appena si calzerà in piedi saltati completamente i nervi e adesso tutti contro tutti non sa perché Rubic per terra è in gore è in gore cazzo successo ora c'è un primer atto cazzo cazzo chi 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 a chi spiegato dai 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 da dai 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 ci siamo raga è successo tempo grande è possibile stanno rivedendomi perché si è pronto e lo vanno in banco e tiramenti dai ragazzi franco la giudite franco la giudite la giudite è franco ti prego giudita franco la giudite è franco la giudite è franco te lo meriti franco te lo meriti franco guardalo bene guardalo bene come prima dirà si 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 si